Adesso parliamo dei dati, vedo che molti dicono ma siamo sicuri che i dati dell'Istat non siano truccati ragazzi a questo punto a mia memoria dati Istat truccati non ne ricordo ci possono essere stati dati dell'Istat sull'inflazione, se vado a memoria quando ci fu il passaggio di l'ira euro che erano mal calibrati tant'è che poi l'Istat ha sviluppato l'indice anche dell'inflazione dei beni a maggior consumo l'ira era un problema di metodo, mettevi assieme tante cose alcune non aumentavano, altre aumentavano tantissimo il dato era, parliamo del passaggio lira euro e quindi dal 2001-2002 in poi ci fu una grossa polemica su questo detto questo, no, non ho motivo per dubitare dei dati Istat lo dico in maniera molto tranquilla per quello che riguarda gli italiani sono stufi di essere presi per il sedere se è un giudizio politico riferitelo ai governi attuali o precedenti ma cosa c'entra chi vi racconta i dati? è un giudizio politico riferitelo ai governi attuali? è un giudizio politico riferitelo ai governi attuali? è un giudizio politico riferitelo ai governi attuali?